Ciao, sono Chiara. Volevo informarti che per andare alla mostra dei dinosauri in carne ed ossa puoi lasciare la tua auto al parcheggio Bagnoli e prendere la linea 514. Il prezzo del parcheggio e della navetta fino a 4 persone, sia in andata che in ritorno, è di 6 euro. Lasciare l'auto al parcheggio Epodromo ti costa invece 2 euro per l'intera giornata, più il prezzo del biglietto per la linea 514, che puoi acquistare anche a bordo al prezzo maggiorato di 1,50 euro.